Ingegnere di Giovanna, per la TU25 il campionato italiano ritorna a Sciacca, si fa ogni quattro anni e per la seconda volta consecutiva, dopo l'esperienza, la prima, il 2017, nuovamente alla Lega Navale di Sciacca. Quindi questo vuol dire che alla Lega chi ha partecipato, chi organizza, ha trovato quello che cercava? Ma decisamente sì, nel 2017 c'è stato uno splendido campionato organizzato proprio dalla Lega Navale con presidenza allora l'avvocato Aldo Rossi e è andato talmente bene che dopo quattro anni la classe Platù ha voluto ritornare su Sciacca. E noi oggi ci troviamo a riorganizzare questo campionato tenendo conto che siamo purtroppo nell'era dopo Covid quindi avremo un'affluenza di barche piuttosto minore rispetto a quella che c'è stata nel 2017. Comunque i concorrenti sono molto agguerriti e quindi ci aspettiamo con questo bel vento che abbiamo qui delle spettacolari riprese. Spieghiamo che cos'è il TU25 per chi non è appassionato di nautica. Il Platù 25 è un tipo di barca, i 25 piedi quindi è 7 metri e 50, è una barca a vela con un equipaggio di 5 persone, estremamente performante, quindi è una barca molto veloce e quindi in regata se ne vedono delle belle molto spesso. E quindi i concorrenti veleggiano tutti con barche esattamente uguali l'una all'altra. Tant'è vero che oggi ci sono le operazioni di stazzatura che c'è un ufficiale che è stazzatore appunto che controlla che le barche siano tutte perfettamente uguali l'una all'altra. Invece domani le regate iniziano? Domani iniziano le regate, si faranno da due a tre regate al giorno per quattro giorni fino a domenica quando ci sarà la premiazione. Quindi avremo finalmente il campione italiano 2021. Oggi c'è parecchio vento, le condizioni meteo, marine e saccensi vanno bene per questo tipo di campionato, per questo tipo di competizione? Diciamo che con un vento di questo genere ci sarà molta adrenalina in giro perché come dicevo con barche di questo genere e un vento di questo tipo se ne vedranno delle belle. Sarà veramente uno spettacolo.